Le segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV accendono oggi i riflettori sul degrado in cui versa la pista da skateboard di via Ponchielli nella zona compresa fra via Togliatti, via Paganini, alle spalle del campo da calcio di Villa San Martino. La pista e l'area parco che la circondano versano in uno stato di abbandono allarmante, con rifiuti sparsi in ogni angolo, il tutto a due passi da un'area non certo dimenticata della città qual è la trafficata via Ponchielli. Ce n'è per tutti i gusti, dai rifiuti pericolosi come vetri di bottiglie rotte, pezzi di legname sparsi qua e là, oltre a sporcizia dei generi più disparati, dai resti di bivacchi e picnic di vario genere, fino addirittura a magliette e indumenti abbandonati. Il bidone c'è, ma è pieno oltremisura. Un luogo dimenticato dalle operazioni di pulizie, ma non dagli skaters della città che regolarmente frequentano questo spazio per ritrovarsi e praticare la loro disciplina. Le piste presenti vengono tra l'altro frequentate nonostante l'accesso non sia così scontato. Ci si può entrare attraverso la cancellata dell'area sportiva di Villa San Martino, quando questa rimane aperta all'attività della società calcistica, ma più frequentemente gli amanti dello skateboard entrano da un buco nella recensione sulla pista ciclabile di via Ponchielli. Ci si infila, si fa un bel salto all'interno e non manca l'ironia della situazione, visto che qualcuno ha pensato anche di disegnare una scala per agevolare con l'immaginazione entrata e uscita.